Allora quanto è lungo il pisello di Mike Tyson? Allora il pisello di Mike Tyson che mi ha visto ha dovuto essere mezzo metro Mezzo metro? Ma sono troppi eh signorina Mezzo metro è decisamente troppo Insomma è una bigola, non è mica un cavallo, è un uomo Ma è sicura lei che ha visto bene il cazzo di Tyson Insomma Tyson, voglio dire, è anche grosso, potrebbe essere una gamba No no, lei era Luzel perché niente, l'ho visto ed era scuro E' la Luzel? Ah si è un pizzo la Luz e l'era proprio la becca Insomma quando è così allora signorina, vi faccio un'altra domanda Sembra che questa abbia risposto bene Eh si eh, fammi una tornata perché mi diosieno ho visto tanti Ma con quella Tyson? Mai Allora niente, non ho mai visto una becca così grande Adesso passiamo la linea a Sandro Ciaffoloni che ci farà la televendita